Il fatto che con l'illuminazione si riesce ad ottenere dei risparmi energetici interessanti che possono permettere di trovare le risorse per mantenere in piedi questo sistema e conseguentemente attraverso un rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione si possono già mettere in pista i punti cabini di partenza di un sistema come quello delle smart city utilizzando la pubblica illuminazione si può partire per fare un primo passaggio verso una tecnologia di rete che è tipica di quella delle smart city